Siamo a Fucecchio, il punto di riferimento sulle questioni della sicurezza attraverso gli amici dell'Angli, qui c'è Vareta Nicolai e devo dire che oggi gli amici a Fucecchio stanno vivendo un momento molto bello, siamo sulla panchina, è Marmo di Carrara, è il simbolo di quello che è l'attenzione ai caduti del lavoro, c'è il sindaco, l'essio Spinelli, c'è la vice sindaca e Mario Nini insieme per una battaglia che riguarda tutta la Toscana, non più caduti sul lavoro, non più infortuni, la sicurezza come problema centrale del lavoro, la panchina è a segno di questo impegno.